Rai, Fabio Fazio, ecco da chi sarà sostituito. Negli ultimi giorni circolano molte voci sul probabile abbandono di Fabio Fazio a che tempo che fa. Non si tratta di una decisione presa autonomamente dal conduttore, ma di una scelta del nuovo governo di centrodestra. La premier Meloni, infatti, va anche verso la sostituzione dell'ad della Rai, che non sarà più Carlo Fuortes, ma forse Giampaolo Rossi o Roberto Sergio. In quest'ottica sono previsti tanti cambiamenti, nei programmi di punta della Rai. Sembra che anche Lucia Annunziata dovrà lasciare la rete, soprattutto dopo la gaff con la ministra Eugenia Maria Roccella, con la quale ha discusso in modo animato. Inoltre, si vocifera che anche Monica Maggioni potrebbe lasciare definitivamente il Tg1, dopo essere stata un volto di punta per molto tempo. Tutto questo non è visto di buon occhio né dall'opposizione, né da molti telespettatori, che vorrebbero continuare a vedere la consueta programmazione senza stravolgimenti. C'è anche chi ipotizza di un possibile calo degli ascolti, della TV di Stato, dato che i telespettatori dovrebbero adattarsi, a volti diversi da quelli a cui sono abituati. Proprio per questo si sta pensando a degli adeguati sostituti, che possano non far sentire la mancanza al pubblico dei volti precedenti. Naturalmente, per quanto riguarda la sostituzione di Fabio Fazio, a che tempo che fa, non ci sono notizie certe. Anche il suo abbandono è ancora da stabilire con certezza, perciò anche sui sostituti non si hanno certezze. Molte voci però stanno circolando in merito a Massimo Giletti. Infatti, il conduttore non è più al timone di Non è l'Arena e, dopo le polemiche, tutti sembra indicare che possa essere proprio lui, a prendere il posto di Fabio Fazio. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da TV Blog, sarebbe già iniziata una vera e propria trattativa. Tutto farebbe pensare che possa andare in porto, anche in considerazione degli ottimi rapporti, che intercorrono tra Giletti e l'attuale governo. Nel frattempo, anche Fabio Fazio pensa al suo futuro lontano dalla Rai. A quanto pare, il conduttore potrebbe andare sul canale 9, affiliandosi quindi alla rete di canali Discovery. Quindi potrebbe avere un programma tutto suo su questi canali, anche se per ora è ancora tutto da vedere. Per il momento resta al timone di che tempo che fa, in attesa di notizie ufficiali più certe, che potrebbero arrivare direttamente dalla Rai. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe continuare a vedere Fabio Fazio oppure, secondo voi, chi dovrebbe sostituirlo? A voi i commenti! Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti.